Voto in Spagna, scrutinio quasi ultimato, vittoria dei socialisti ma senza maggioranza di governo, expluade l'ultra destra di Vox e crollo dei popolari. Di Maio ribadisce, province da abolire, Siri deve lasciare. Slitta ancora l'incontro tra il sottosegretario indagato e il presidente Conte. Non si ferma l'offensiva del generale Haftar in Libia, finora 300 morti, 90 bambini. Appello del Papa per i profughi nei centri di detenzione. La morte del pensionato di Manduria dai video, la prova che l'uomo fu seviziato per una notte intera dalla baby gang, il procuratore chiede penesemplari. I macchinisti erano ubriati, soppresso a Brescia il Freccia Rossa delle 5.17 per Napoli, passeggeri trasferiti. Aprile si chiude con il maltempo e il freddo, a cortine sulle Dolomiti è tornata la neve, primo maggio sugli sci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS